Una maga sudamericana e un presunto avvocato. Due servizi falsi, secondo Antonio Ricci, responsabile del Tg satirico Striscia la Notizia, che ha sospeso fino a data da destinarsi Fabio e Mingo, ovvero Fabio Dinunzio e Domenico De Pasquale, i due inviati pugliesi. Dopo dieci giorni di mistero, il Gabibo ha aperto la puntata con un breve editoriale nel quale annunciava, a nome di Ricci, anche l'avvio di azioni illegali. Dal tono utilizzato in trasmissione sembra davvero che dopo quasi vent'anni di lavoro il rapporto si sia interrotto. Dopo neanche due ore la replica degli inviati baresi. Ci meravigliamo per il contenuto delle frasi riportate da Gabibo, in quanto noi, scrivono Fabio e Mingo, ci siamo sempre prodigati per rendere al meglio la prestazione di attori nell'ambito dei servizi, prodotti esclusivamente nel rispetto delle precise indicazioni ricevute, assecondando sempre gli autori del programma nella scelta e nelle modalità di esecuzione dei servizi stessi. I due servizi in questione sono andati in onda nella scorsa stagione e da striscia sostengono di avere prove inoppugnabili su quello che dicono. Non a caso Antonio Ricci ha già cominciato la ricerca di nuovi inviati, come annunciato nei giorni scorsi sia sui social sia durante la trasmissione. Immediati commenti sui social network subito dopo la notizia data da Gabibo, tanto è che immediatamente l'hashtag Fabio e Mingo è entrato subito tra i top trend di Twitter.